I giardini botanici e i musei di storia naturale svizzeri conservano più di 60 milioni di reperti. Dietro ad ognuno di questi si nasconde una storia unica, a volte così straordinaria che si stenta a crederci. Secondo te la storia seguente è vera o è completamente inventata? Benvenuti, siamo alla quarta A delle scuole medie di Agno e siamo nel Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. Nei giardini botanici e nei musei di storia naturale della Svizzera sono conservati più di 60 milioni di reperti. Dietro ad ognuno di essi si nasconde una storia unica, a volte così straordinaria che si stenta a crederci. In occasione della giornata nazionale delle collezioni di storia naturale, più di 20 istituzioni in tutta la Svizzera offrono uno sguardo unico dietro le quinte. Vi invitiamo con noi a scoprire una di queste storie. Benvenuti nel Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, che ha la sua sede al primo piano di uno dei due stabili del liceo 1, in viale Carlo Cattaneo IV. Il museo studia, documenta e divulga le conoscenze relative sul patrimonio naturale del canton ticino. Conserva e gestisce un patrimonio di oltre mezzo milione di reperti, tra minerali, rocce e fossili, animali, pianti e funghi, e dispone di una biblioteca specializzata. Naturalmente esiste un'esposizione permanente, che offre una visione generale delle diverse componenti naturali del ticino. Grande ricostruzione di ambienti, che mostrano gli animali e le piante più significative, mentre alcune sezioni sono dedicate a fossili, minerali e rocce, tra cui i famosi rettili del Monte San Giorgio. È anche presente un'ampia sezione dedicata ai funghi. Visitatelo dunque, l'entrata è gratuita. Vi diamo ora il benvenuto nella stanza del museo, dove è conservata la collezione dei vertebrati. Qui troviamo reperti impagliati di uccelli, mammiferi, anfibi e rettili. Il reperto che vi presento è stato nel 1992 ed è stato catturato nei prati attorno alla pista dell'aeroporto di Agna. L'animale in questione è una ricola terrestre italiana. Solitamente questa specie vive in superficie tra la recettazione e i lunghi corsi d'acqua. Per esempio, il lungo vedeggio vive una popolazione di questi animali. All'inizio degli anni 90, sul sedimento dell'aeroporto di Agni, ci sono stati parecchi problemi legati alla presenza di una grossa popolazione di arvicole. Il prato attorno alla pista sul quale transitavano i piccoli aeri cedeva facilmente a casa delle molte gallerie scavate dagli animali, poco sotto la superficie. Queste caratteristiche ecologiche, vivere sotto terra scavando cunicoli in aree prative, sono tipiche però di un'altra specie di arvicola presente esclusivamente a nord delle Alpi. Uno studio scientifico, più attento, dimostrò che gli animali presenti a Agni erano tantissimi. La stima eseguita con metodi scientifici parlava di 10.000 animali sotto i prati dell'aeroporto, che appartenevano in realtà all'arricola terrestre italiana, tipica degli ambienti di riva e che aveva quindi sorprendentemente cambiato habitat. Le cause di questo cambiamento potevano ricondursi a un interramento artificiale dei canali e reali ai cieli aperti presenti nei pressi dell'aeroporto. Per ridurre il numero di animali si cercò una soluzione naturale, senza usare veleni e gli animali furono studiati all'aeroporto per un anno e mezzo. Una vera attenzione scientifica. Secondo te questa storia è vera? È possibile? Domenica 20 novembre raggiungici al Museo per la Giornata Nazionale delle Collezioni di Storia Naturale, perché ammirare queste collezioni ci permette di andare indietro nel tempo e guardare avanti, per progettare nel migliore dei modi il nostro futuro. Scopri altre storie incredibili sul sito www.fantasticstories.ch e vieni a trovarci durante la Giornata delle Collezioni di Storia Naturale.